Musica Cordiale saluto a tutti voi, buongiorno, benvenuti alla rasseggia stampa di oggi, lunedì 14 novembre 2016, siamo di nuovo in diretta, buon inizio settimana a tutti voi, cari telespettatori, che ci seguite sempre con tanto affetto, in tantissimi, devo dire, un affetto che ci piace, che ci commuove in alcuni casi. E allora grazie, cominciamo questa settimana insieme a voi e lo facciamo con i giornali. Tra un istante inizieremo a guardare, a sfogliare i quotidiani, il Correa Adriatico e il resto del Carlino, che come sempre sono i due quotidiani che abbiamo nel nostro touchscreen con gli inserti della provincia di Piazza Urbino, prima però diamo uno sguardo al calendario di oggi. Il calendario di oggi è che ci mostra il santo del giorno, oggi sono tanti, i santi li leggiamo insieme. Allora, oggi la Chiesa Cattolica ricorda i santi Nicola Tavelic, Deodato da Rutucinio, Stefano da Cuneo e Pietro da Narbona. Il sole è sorto alle 7 e tramonterà alle 4 e 3 quarti di oggi pomeriggio. Il cielo oggi sarà nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio, nei settori centro-settentrionali e fenomeni in residuo e nei settori meridionali inserati. Il limite delle nevicate è attorno ai 1000 metri. Le temperature sono in aumento nei valori minimi, in diminuzione invece nei valori massimi. I venti sono moderati, con vento forte lungo la fascia costiera. Per martedì, la giornata di domani, 15 di novembre, precipitazioni ancora con residui, fenomeni nel settore meridionale della regione. Al mattino il limite delle nevicate sarà intorno ai 900 millimetri. Le temperature sono senza variazioni di rilievo. I venti di brezza tesa, mentre avremo vento fresco lungo la costa, il mare sarà molto mosso. Per i prossimi giorni avremo tempo stabile, almeno fino alla giornata di giovedì. Il resto del carino questa mattina punta in apertura su un fatto che è avvenuto nel paddock dopo il Gran Premio a Valencia di Valentino Rossi. Ecco qua la foto che ritrae Valentino Rossi, lo vedremo tra poco nelle quattro fotografie messe in sequenza. Vedete nel paddock di Valencia, mentre passa in scooter, Valentino Rossi molla un calcio ed una gomitata ad una donna che era finita nella sua traiettoria. Poi Valentino chiede scusa, spero non si sia fatta male, però insomma questo video è diventato virale in giro per la rete, insomma non ci fa una gran bella figura. Comunque, Montemaggiore invece, parliamo del referendum, ha detto no, quindi salta il doppio supercomune. Colli al Metauro non passa, quindi ognuno resterà per conto suo, mentre via libera alle terre roveresche, gli altri comuni che invece che lo stesso dovevano decidere e hanno votato per il sì. Vedremo tra poco anche l'altra notizia, ragazzini salvati mentre mettevano sassi sui binari, paura vicino alla stazione. Allora andiamo e ricominciamo da Valentino Rossi, ecco qua la sequenza delle immagini, e il dottore rallenta appena, vedete, dall'alto da sinistra, praticamente da qui, questa è la foto numero uno, poi a seguire. Vedete, Valentino a un certo punto nella sequenza numero quattro, qua, visto che la donna non si spostava, non era gradita evidentemente, insomma le ha dato un calcio e poi una gomitata. Vale si fa strada nel paddock, poi si scusa con la donna, collisione a Valencia, il video diventa virale, stare qui è impossibile, le sue giustificazioni sono stare qui è impossibile, la gente mi circonda, non si riesce a muoversi, ho avuto paura di cadere, spero non si sia fatta, non si sia fatta male. Ok, questa è la notizia sul resto del Carlino. Poi c'è nella pagina 3 del Carlino, sempre di questa mattina, la foto e il luogo dell'incidente dove ha perso la vita questa 19enne, questa ragazzina che andava e frequentava la scuola alberghiera. Subito i lavori, Florenza non si è morta in vano. Un gruppo di mamme ha svolto un sopralluogo, una tragedia, dicono e scrivono, che si poteva evitare, tagliate le frasche che coprono il lampione, rifate strisce pedonali e illuminazione, sono le richieste di queste mamme, i ragazzi devono salire o scendere dagli autobus in condizioni più sicure. Una di loro, Jessica Nicoletti, dice non possiamo permetterci altri drammi, questa ragazza è come se fosse nostra figlia, onoriamo così la sua memoria. E queste mamme che hanno fatto il sopralluogo ora chiedono, appunto anche mostrando le fotografie di com'è la strada, di com'è la vegetazione che copre l'illuminazione, la segnaletica che non c'è, insomma, tutto quello che si potrebbe fare per evitare o per lo meno per garantire la sicurezza a questi ragazzi che vanno a scuola. Allora, dicevamo del referendum, Colli al Metauro, ecco qua, allora Montemaggiore dice no la sfida dei campanili, ecco il risponso delle urne e gli scenari, favorevoli saltare Serrungarina, ma a questo punto la fusione possiamo dire è a forte rischio, perché? Perché ecco nel riquadro un po' come sono andate le cose, il risponso delle urne, Montemaggiore 2.300 persone chiamate a votare, saltare erano 5.243, a Serrungarina 2.149, insomma, vedete, Montemaggiore si è espresso con un bel no, 936 persone hanno votato no, mentre 520 invece per il sì. Diversa la situazione invece a Saltara e a Serrungarina, dove per esempio Saltara ha avuto un sì schiacciante con 69%, 1594, quasi 1600 persone a Saltara hanno votato per la fusione, Serrungarina invece quasi uno su due, ma insomma questa è la fotografia di quello che è successo. Adesso bisognerà vedere invece come andrà, non credo che si possa fare la fusione. Diversa la situazione invece sull'altro fronte, Barchi, Orciano, Piaggia e San Giorgio tutte d'accordo per la fusione, addirittura guardate qua, a Barchi l'83% dei votanti ha detto di sì e quindi Terre Roveresche è e sarà il nuovo comune, sarà una realtà, 82% a Orciano, il 63% a Piaggia e il 72%, quasi 73% a San Giorgio di Pesaro. Questo è il risponso delle urne. Poi, salvati due bambini, due bambini sui binari, ci camminavano sopra per metterci dei sassi, hanno 9 e 10 anni. Ieri pomeriggio intorno alle 18 a Pesaro, sono andati lì vicino alla stazione, si sono avviati verso nord raccogliendo sassi dalla massicciata, quelli che ci sono lì nella ferrovia, giustamente, nei binari. Un passeggero in attesa ha visto questi due bambini da soli e ha dato l'allarme. Da Cartoceto invece, Cartoceto dopo un'invasione tra rumbi di moto, Harry Davidson e musica jazz, weekend vincente per il festival dedicato agli estimatori dell'oro verde, cioè l'olio d'oliva, delle Marche e non solo. Insomma, è stata una giornata ieri, tra l'altro, molto favorevole anche per le uscite. Non era freddissimo, non c'era vento, c'era anche un sole, soprattutto al mattino, che ha scaldato anche. Insomma, un bel fine settimana a Cartoceto per questo festival, che nonostante mancasse, perché poi di fatto, lo sappiamo tutti, l'olio non c'è, quest'anno la raccolta è andata malissimo, ma nonostante tutto, insomma, è stata una bella iniziativa, una bella festa. Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro. In primo piano c'è la questione dei troppi palazzi abbandonati a Pesaro, un piano per il rilancio, dal polo del food alla nuova questura, ma rimane il nodo del San Benedetto. Mentre la foto è per la VL, che è finita al tappeto, Varese sbanca Pesaro, prova opaca, malgrado i 48 punti di Jones e Arrow. E poi, sempre sul Corriere, in prima pagina, la morte di Florenta, mobilita le mamme, i genitori degli studenti scrivono al sindaco, più illuminazione davanti all'alberghiero Santa Marta. La pagina di Fano, invece, del Corriere, eccola qua, finalmente si vota la fusione, causa di tensioni e spaccature, l'atto per costituire un'unica ASET nel Consiglio di domani, poi la parola passerà alle due società. Paradossalmente, le tariffe idriche aumenteranno per la proprietà delle reti. Porta Santa chiusa nel segno dell'inclusione, con il Vescovo, al Santa Croce c'era anche il piccolo divan nato nella traversata del mare. Con lui il Vescovo l'aveva aperta e con lui Trasarti ha deciso poi di richiudere la Porta Santa. Si lavora alla qualificazione del centro, del centro fanese, annunciata dal sindaco per il 2017 la pedonalizzazione della strategica Via Cavour, con un nuovo arredo, saranno abellite o ristrutturate le piazze Costanzi, Marcolini e Amiani. Vantaggi anche per il commercio. Il Comune intende riappropriarsi di Palazzo Marcolini, sarà trasferito invece l'Istituto d'Arte. Dalla Valle del Cesano, lavori conclusi dopo due mesi, il cantiere presto smantellato, scaduta l'ordinanza del sindaco Pedinelli, siamo a San Costanzo, le reti sistemate da Marche Multiservizi, qualche contraccolpo invece per i negozi, il Comune di San Costanzo comunicherà oggi i tempi per il ripristino. Da Mondolfo si allontana dall'azienda, ricerche nella notte, carabinieri vigili del fuoco impegnati per un anziano, l'allarme è stato lanciato dal figlio alle ore 19. Carabinieri vigili del fuoco sono accorsi a Molino Vecchio, frazione di Mondolfo, per rintracciare un anziano che si era allontanato nel pomeriggio e non è stato ancora rintracciato dai familiari. Soffre di Alzheimer, sicuramente rimasto vittima di un disorientamento temporale, allontanandosi senza riuscire a trovare la via del ritorno. Si spera comunque che sia al sicuro. Da Senigallia, braceria aperta e subito chiusa, un'odissea di un anno e mezzo. Ora il giudice dà ragione al ristoratore sulla canna fumaria, ma senza urgenza. Un ristorante aperto e dunque è subito costretto a chiudere. Oltre 60 mila euro di investimenti, bollette da pagare, affitto da corrispondere al proprietario, ma senza la possibilità di lavorare. Benvenuti in Italia, avrebbe da dire. Però è la storia incredibile di Vito Giotta, un esercente che ha deciso di investire nel centro storico di Senigallia in via Armellini, aprendo che cosa? Una nuova attività, una nuova attività diversa dal solito, un ristorante diverso dal solito, una braceria. Da un anno e mezzo va avanti però l'odissea del ristorante che non riesce a lavorare. Nell'articolo di Sabrina Marinelli troverete tutti i dettagli di questa incredibile vicenda che ha colpito questo imprenditore. Va in carcere, siamo sempre sulla pagina di Senigallia, va in carcere per 200 euro, condannato per abusi edilizi, non rispetta i termini per la pena alternativa, doveva pagare l'esigua somma di denaro a un'associazione ambientalista. Negativo l'esito dell'affidamento in prova, un imprenditore dovrà scontare dunque un mese di carcere. Paga un cellulare online, riceve invece una beffa, una giovane che è stata raggirata da due truffatori che però sono stati scovati e denunciati. Direi che per oggi possiamo fermarci qui, ci sono poi tutte le pagine con gli inserti, le cronache sportive, dalla Serie A fino ai campionati cosiddetti minori, tutti gli altri sport, insomma come al solito la pagina sportiva, le pagine sportive sono molto lette anche dai marchigiani che di sport se ne intendono. Noi ci fermiamo qui, c'è il telegiornale questa sera alle 20.30 e naturalmente il nostro sito internet www.oclonotizia.it Vi auguro una buona giornata e ci vediamo stasera.